ciao a tutti amici amiche di quinta dimensione letture bentornati qua sul mio canale benvenuti a tutti i nuovi vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanellina viste le tantissime richieste di queste cose molto carine di parole magiche formulette latino eccetera genesa eccetera ho deciso di fare insomma quasi subito un altro video per quanto riguarda la fase della luna calante ok quindi andiamo ad eliminare no come molti di voi sapranno nella fase della luna calante si toglie ok per andare a ripulire a togliere e a eliminare qualcosa allora questo diciamo incanto è questo questa parola magica la usiamo per vi dico subito le cose ascoltate i video ragazzi non fate 10.000 domande sotto i commenti perché se uno ascolta io le dico le cose tra l'altro leggete anche la descrizione allora per cosa lo facciamo intanto prendiamo la mia bellissima genesa allora per cosa facciamo questo questo incanto queste parole magiche le facciamo per ricorda tutti luna calante allontanare o fermare le negatività quindi semmai vogliamo allontanare diciamo qualcosa di negativo che pensiamo noi una situazione che ci sta dando fastidio anche una cosa del genere poi anche allontanare o fermare anche qualche persona comunque sia allontanarci un po far prendere la distanza qualcuno la pensiamo ok la persona che ci sta dando fastidio e poi provvediamo a questa frase per combattere anche lo stress per quindi allontanare questa stanchezza forte che si sente le dipendenze allontaniamo le dipendenze quindi cerchiamo di stare un po più sereni un po più tranquilli di alleviarci un po lo stato d'animo ok qualsiasi cosa possono essere dipendenze da persone dipendenze insomma varie oppure anche per fermare situazioni brutte ok situazioni che stanno prendendo una brutta piega quindi cerchiamo di far far terminare questa situazione tendenze negative situazioni che stanno veramente buttando male pericolose e insomma più o meno sono queste no le cose quelle di allontanare porre fine rallentare va bene sono queste le cose ricordo dalle tre alle cinque volte al giorno va bene c'è chi lo fa tre momenti diversi della giornata oppure una volta solo e si sceglie il momento propizio per lui perché energeticamente non può essere buono per tutti la stessa cosa di solito ripeto sempre le frasi sono di cristiano tenca chi vuole si vada trovare i volumi ce ne sono diversi di libri di parole magiche allora cristiano tenca dice dalle tre alle cinque volte al giorno per tre momenti diversi però è stato visto anche perché io seguo anche gli scritti suoi comunque è stato visto che c'è gente anche che le fa anche io è anche una volta solo al giorno però funziona lo stesso magari trovi l'ora più propizia energeticamente chi lavora con le energie lo sa quando è più in grado di fare qualcosa quando gli viene meglio quindi basterebbe quella volta lì l'importante che ogni volta che lo fate o lo fate una volta al giorno o tre volte al giorno lo dite tre barra cinque volte va bene poi dopo allora altra cosa la cosa che voi volete quindi se c'è una persona se c'è qualcosa insomma quello che voi volete lo dite dopo potete dirlo dopo però non è necessario per forza perché spiego questo come l'altro video della luna piena allora perché l'universo le energie non hanno bisogno per forza ok di un qualcosa che voi dite già abbiamo energeticamente questa frase è composta in un certo modo che già funziona ragazzi ragazze quindi se voi la pronunciate comunque poi va a vedere energeticamente nella vostra vita che cosa c'è da togliere quello è il discorso non è che dovete per forza lì mettersi no allora chiaro che se è una persona specifica magari uno dice il nome però già la persona specifica veramente ed energeticamente nel vostro subconscio inconscio energetico campo energetico esiste questa situazione quindi l'universo volendo la va già a pescare e a togliere quindi basterebbe anche solo la frase che vi dico non c'è bisogno per forza di aggiungere niente va bene questo è molto importante allora che altro con la genesa crystal spero che molti di voi l'hanno acquistata chi non ce l'ha la acquisti pure la trova anche online è questa cosa la genesa crystal praticamente un amplificatore di energia che piazzato in casa aiuta moltissimo quindi abbiamo questa genesa crystal che può essere diciamo posizionata sul lato triangolo questo o il lato quadrato questo allora la formula magica la formula magica potete scriverla come dico sempre su un post it e metterlo anche qui dentro va bene un'ora al giorno adesso vi spiego come un'ora al giorno e poi la togliete tutta la fase della luna calante oppure fino ad all'avverarsi diciamo della cosa se vi è successa se è a posto la finite non è che dovete continuare no fino all'avverarsi o comunque tutto il ciclo della luna calante se scrivete per voi e per un'altra persona nome e cognome vostro data di nascita e l'altra persona nome cognome vostro della persona e data di nascita e in questo caso se siete due la mettete sul lato quadrato una volta al giorno ok se solo per voi lato triangolo nome cognome vostro data di nascita e mettete qua chiaramente sempre con la frase ragazzi ragazze sempre con la frase che vi vado a dire quindi la frase e poi nome cognome vostro data di nascita col post it dentro allora che neanche esce lato triangolo se lo state facendo per voi lato quadrato se lo fate anche per un'altra persona va bene quindi questo poi diciamo lo decidete voi vedete come come volete fare questa è una cosa in più che potenzia è chiaro io ve lo dico perché potenzia ma non è scritto da nessuna parte e anche diciamo le persone che comunque lo fanno l'hanno fatto allora si funziona ok però basterebbe anche solo la frase se non c'è la genesa ragazzi non fa niente dite la frase lo stesso l'intenzione è importante non è che l'universo premia perché sei più brava o più bravo perché hai comprato questa è sia chiaro che queste cose qua nelle altre dimensioni non esistono quindi anche se non è la genesa non è che sei una persona che ha meno di un'altra questo è sempre chiaro importante la tua energia è la tua intenzione l'intenzione è fondamentale fede e intenzione sono gli ingredienti particolari per far realizzare tutto 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 non ve la prendete con l'universo con chi va detto le formule con chi va fatto le carte con chi voi siete solo voi basta questo buttare all'esterno le colpe le cose pensate a voi pensa la tua energia pensa a crescere non pensare di chi è la colpa va bene pensa a lavorare bene semmai che è diverso allora la formula ragazzi ragazze questa anzi la appoggio un attimo qua sopra le nostre pietre allora la formula ve la leggo poi ve la scrivo anche nell'info box vi metto per bene gli accenti come li mette tenka per farvi capire bene dov'è l'accento della vocale allora vi ricordo fase calante 35 volte al giorno o per tre volte al giorno ma anche una volta al giorno andiamo cum luna minuitur claudo sordes cum luna minuitur claudo sordes cum luna minuitur claudo sordes ora ricordo allontanare persone allontanare negatività fermarle anche al fermare fermare le dipendenze se siete un po sotto stress non state riuscendo a staccarvi da qualcosa compresa una persona insomma situazioni brutte tendenze negative che avete cercate di recitarla ripeto a tutti o la recitate senza alcun bisogno di niente o la scrivete dentro un post it se riguarda solo voi mettete il vostro nome la frase che vi ho detto adesso cum luna minuitur claudo sordes poi nome cognome tuo con la data di nascita la metti sul lato triangolo una volta al giorno un'ora al giorno ok poi togli il foglietto e il giorno dopo lo fai lato quadrato allontanare che ne so anche un'altra persona che dà fastidio o cosa scrivi sul post it cum luna minuitur claudo sordes tuo nome cognome data di nascita nome cognome della persona data di nascita un'ora al giorno lato quadrato bene così funziona e ovviamente la genesa poi usatela anche proprio per voi per la vostra casa per aumentare l'energia questa qui di 16 centimetri copre 250 metri io ce l'ho così ma avete chiesto i materiali questa qui è rame ma perché piace a me il rame molto lo trovo proprio magnetico al massimo però ce l'ho anche da alluminio e c'è anche la pentasfera quella più grande a sei diciamo come odio non mi trovo le parole allora con sei cerchi diciamo ecco sei cerchi che più per la connessione spirituale eccetera contatti con con le altre dimensioni eccetera questa è proprio anche se avete un ambiente da purificare è tipo in casa il posto di lavoro la prendete anche più grande in base ai metri quadrati anche perché questa copre 250 metri per una casa va bene la 16 centimetri ok per un ufficio che ne so di 20 metri quadrati va bene già che ne so palestre sale grandi cose grandi insomma saloni queste cose qui già sarebbe meglio una da 32 32 centimetri va bene qualsiasi materiale ragazzi non importa è importante la vostra connessione perché poi la genesa quando l'acquistate vi daranno anche le istruzioni è perché non è che la comprate la mettete lì c'è da attivarla c'è da dare il nome insomma c'è da entrare in in comunione con questa va bene io ripeto a tutti se non hai la genesa crystal le cose ti funzionano uguale chiaro non ci fissiamo perché anche questa è una limitazione io lo dico io vi posso dire dare consigli su come potenziare le cose ma non è che se non le fate non siete bravi lo stesso va bene perché sempre il tuo lavoro è sempre la tua energia che ti fa comunque conquistare una cosa non è che quello che non c'è la genesa non riesce nella vita e chi c'è la genesa riesce nella vita va bene questo è voglio dire speriamo che fino a qua ci siamo è ok allora andiamo con un messaggino per te vediamo un po ti voglio dare un messaggino oggi con la stesa 1 la nostra ametista la stesa 2 la florite verde la stesa 3 il quarzo rosa la sfera scegli pure distinto il messaggino che vuoi le metto qua su perché le lascio anche tra l'altro voglio vedere per te con i miei oracoli divini sei scelto poi dopo vi ripeto tutto il discorso della formula è adesso intanto ti do un messaggio che ti deve arrivare adesso in questo momento in questo video andiamo dalla mia presenza io sono per chi ha scelto la metista il messaggio per te quando apri il video in questo momento è cioè cosa ho detto io sono ragazzi io non c'è non lo so cosa succede nei miei video io boh lo vedete in diretta ragazzi lo vedete lo vedete ve le tiro davanti le carte ve le apro davanti cioè io sono luce io sono amore io sono la verità io sono numero 7 maestro acceso san germen ti invita a recitare spesso questo potente mantra qui c'è una chiamata di san germen a chi ha scelto la metista chiarissima allora san germen ti vuole dire oltre che a fare l'io sono di recitare anche questo che è quello più corto canalizzato sempre allora vatti a vedere sul mio canale la lista video trovi l'invocazione decreto alla fiamma viola del maestro san germen che è l'io sono quello più diciamo famoso quello più ufficiale completo che è abbastanza lungo questo è quello più corto che va benissimo lo stesso è proprio una recitazione di questo per risvegliarti ok il tuo sé superiore perché tutto sa e quindi che ti dà le informazioni che ti servono ok chiama la tua presenza io sono e dirgli vieni amata presenza io sono vieni e vedrai che ti si aprirà qualcosa che non riuscivi a capire a vedere qua c'è un numero 7 per te che potrebbe essere un mese un giorno un orario un numero che vedi sempre un qualcosa che ti significa qualcosa o qualcosa che ancora deve accadere e accadrà con un 7 di mezzo che può essere all'orario il giorno insomma tante cose allora perché hai scelto la florite per la florite la florite verde un messaggio delle altre dimensioni dalla mia presenza io sono ti sto mandando intuizioni 444 connessione a reami superiori addirittura qua allora qua ci abbiamo qualcuno connesso florite verde 444 bellissimo connessione con reami superiori allora qua ti stanno mandando dei messaggi da un'altra dimensione ok da qualcun altro e c'è una connessione molto forte con qualcuno che probabilmente credo quasi tutti sentiranno perché quando è così impossibile perché tanto ti fanno accorgere se vogliono il modo di sbatte qualcosa lo trovano cioè comunque sia no queste folate di vento comunque qualcosa se vogliono si fanno capire quindi qua ti dicono che sei connesso connessa mi raccomando cerca di capire che messaggi ti stanno mandando le intuizioni te le stanno mandando quindi cerca di capire perché magari hai chiesto e le risposte ci sono ma non riesci a decifrarle quindi qua mi raccomando cerca di decifrare di capire comprendere questo è un messaggio per chi ascolta la florite verde di risposta questa è una risposta perché se hai chiesto qualcosa qua vuol dire che ti stanno dando una risposta quindi qualcuno l'avrà capita qualcuno no però qui fortemente all'ascolto la 2 c'è qualcuno che deve prestare attenzione qua perché qualche messaggio arriva ti sta arrivando ma qualcuno probabilmente non l'ha capito se c'è arrivato questo messaggio qui se c'è arrivato vuol dire che c'era da svegliare qualcuno qua allora perché ha scelto quarzo rosa la sfera di quarzo rosa la sfera di quarzo rosa che messaggio c'è nella mia presenza io sono quarzo rosa mantieni la tua mente aperta 1.55 chi cerca trova oh qua c'è da trovare qualcosa ragazzi qua c'è qualcosa che eccoci che fugge tutto la sfera chiaramente rotonda allora mantieni la tua mente aperta ci dice che devi cercare probabilmente qualcosa perché qualcosa o ti sta sfuggendo o non la stai capendo o non è chiara mantieni la mente aperta perché la devi capire va bene 1.55 ripeto può essere qualsiasi cosa chi cerca trova vuol dire che forse devi cercare qualcosa chi ha scelto il quarzo rosa deve probabilmente cercare trovare un'informazione ti manca un pezzetto forse dove vuoi arrivare tu non lo so potrebbe essere tutto qua però ci dice anche di eventualmente dar credito credere alle cose che scusate la voce che probabilmente non stai a cui non stai dando importanza va bene quindi mantieni la mente aperta non ti chiudere va bene chi cerca trova significa che comunque vai a cercare qualcosa che ti sfugge forse stai cercando un'informazione di qualcuno che non riesce a capire cerca ti dice qua probabilmente sei anche aiutata o aiutato probabilmente te la fanno trovare se ti dicono così quindi mantieni la mente aperta vuol dire anche che magari ti mandano anche dei messaggi di risposta ad un qualcosa che stai cercando che non stai capendo quindi mantieni la mente aperta perché ti arriva e cerca qui ti dicono cerca probabilmente c'è qualcosa sotto il naso e non lo vedi anche questo visto che significa nel tempo quindi sai della serie tipo ce l'avevo proprio davanti e non l'ho visto ecco una cosa del genere questo è un monito per te probabilmente non ti stai accorgendo di qualcosa allora con questi bei messaggi aperti vado a ripetervi ci mettiamo vicino massimo della potenza ragazzi andiamo anzi un'altra cosa che vi volevo dire della genesa ma tanto lo saprete allora qua vediamo vedete i cristalli i tarocchi tutto va bene io allora a volte faccio un po' e un po' perché non è sempre si faccio molto a mio sentire a volte metto le pietre così a volte le metto nel lato anche diciamo triangolo anche una sopra l'altra non fa niente fate anche così per ricaricarli i cristalli i mazzi di tarocchi le cose nuove che vi arrivano qualsiasi cosa posizionate tutto mettete dentro che si ricaricano si potenziano succede insomma di tutto di più mi raccomando questi sono tutti i consigli così in più allora vado a leggervi la frase ce li lasciamo visto che siamo qua li ricarichiamo un pochino ma vi ricordo il raggio di questa da 16 centimetri che 250 metri prende allora ripetiamo questa frase che è da recitare solamente nella fase di luna calante finché c'è la luna calante se c'è la luna calante da una settimana la fate per i successivi giorni restanti chiaramente della luna calante poi smettete poi andate a vedere il video di quella piena invece allora la ripetiamo lo dico per l'ultima volta dalle tre alle cinque volte al giorno in tre momenti diversi della giornata oppure una volta una volta in un momento che ti è più propizio che senti più favorevole lo sai tu la frase è questa cum luna minuitur claudo sordes cum luna minuitur claudo sordes cum luna minuitur claudo sordes era minuitur eh la prima l'ho detta così minuitur va bene minu vedete dove c'è l'accento ricordo a tutti allontanare e fermare anche le negatività o le dipendenze le persone lo stress situazioni brutte tendenze negative vizi insomma allontaniamo allontaniamo con la luna ok calante si toglie allora il messaggio di oggi ve l'ho dato mi raccomando metteteci sempre la fede la convinzione perché è la cosa più importante insomma di più non si può fare ripeto a tutti e poi un'altra cosa di solito come leggete anche le descrizioni dei video eh perché uno se le scrive vuol dire che vanno lette allora se non si realizza mai niente perché perché non ti si deve realizzare quella persona non è per te quella situazione non è per te probabilmente prima di incarnarti su questa terra dall'anima che eri prima hai fatto una scelta questo lo devi accettare tanti non lo accettano e non ci credono bene è ora che ci credete perché perché energeticamente ci si incarna con un obiettivo di fare una certa esperienza su questa terra e molto spesso è proprio una sofferenza una cosa che dovevamo sviluppare e capire e diciamo che a volte ci siamo scelti proprio la sofferenza che abbiamo passato o che stiamo ancora passando eh quindi non si realizza perché a volte anche se la reciti diecimila volte la cosa o hai venticinque genese in casa perché cioè no la genese funziona a livello energetico comunque e va bene però io dico quando vuoi una cosa e non ti arriva perché perché probabilmente non è in linea con lo scopo divino primo secondo non è da tuo carmo non è in base a quella tua esperienza karmica che dovevi fare cioè non è che si può togliere l'esperienza karmica l'esperienza karmica si può diciamo un po' affievolire sicuramente alleggerire come vedete anche con il decreto dell'arcangelo razia cioè cercare di di togliere proprio sti traumi veramente brutti alleggerirci farci stare meglio ok ma l'esperienza auguro a tutti che insomma sia stata fatta questa esperienza e vi sia ormai conclusa per voi sia finita però insomma se ancora siamo in questa fase se qualcuno è ancora in questa fase di sofferenza sappia che comunque se l'ha scelta è un'esperienza da fare ma sappia anche che finisce va bene quindi l'importante è sempre molta fede e convinzione se non si realizza è perché non è il momento per voi divino perché il vostro karma ancora vi chiede di fare dell'altro quindi che altro dirvi ragazzi e ragazze capitele queste cose perché non è che uno perché è più bravo si realizza l'altro invece perché si insomma è meno bravo non è stato bravo a recitare non è queste sono cose cavolate pure ok quindi se non è in linea con una cosa divina con un'energia con un'esperienza che devi fare con il tuo discorso karmico non ti si realizza questa cosa cioè provate comunque se vedete che non vi si realizza mai niente cercate di capire la lezione karmica che c'è da sciogliere e recitatevi il decreto soprattutto quello dell'arcangelo Rasel che vi aiuta comunque a sciogliere blocchi debiti karmici va bene soprattutto quelli che diciamo che sono stati anche dati da altri che non sono colpa vostra cioè soprattutto quelle cose karmiche che vi trovate a vivere che vanno in posto gli altri qualche antenato e non è colpa vostra quindi in quel caso sì che il voto si può togliere ragazzi ragazze scusate la voce di oggi allora vi aspetto sempre qua su quinta dimensione lettura in un prossimo video vi farò anche altre cose carine continuate a seguirmi iscrivetevi al canale chi vuol parlare con me trattamenti energetici consulenze private cose che volete sapere perché tanti mi hanno chiamato anche per insomma discorsi energetici queste cose qua fate voi mi trovate all'email vi mando un grandissimo abbraccio grazie sempre di seguirmi e anche le vostre manifestazioni d'affetto pubbliche private vi ringrazio tantissimo va bene belle anime ciao a tutti a presto ciao